Ciao, sono Alice, sono una delle tre soci di Polaro di Siena. La nostra start-up è nata dalla nostra grande passione per la città di Siena, in cui siamo nate e siamo molto legate, e per la fotografia istantanea. Infatti il nostro progetto è quello di noleggiare le macchine fotografiche istantanee. Insieme a dei libri che abbiamo scritto e ideato noi, a tappe, su Siena, ci sono vari percorsi, sia per adulti che per bambini, e in fondo al percorso c'è lo spazio per attaccare la Polaroid. Abbiamo il piacere questo mese di ospitare un grande artista eclettico, Leonardo Santetti, che gira il mondo con la sua Polaroid. Si possono ammirare le foto degli ultimi suoi tre viaggi in Asia e in Africa.